Questo è il 2D che abbiamo fatto, è perfetto per chi vuole iniziare a fare l'allenamento, seguire un allenamento, avere delle baci salde, puoi iniziare chiunque con qualsiasi tipo di corco, si parte dalle baci per poi arrivare a un ottimo livello, per poi passare a livelli successivi, niente ve lo consiglio, è meglio di tante altre strozzate che si vedono in televisione. I have become alive I wish that I could have this moment for life, for life, for life Cause in this moment I just feel so alive, alive, alive I wish that I could have this moment for life, for life This is my moment, I just feel so alive, 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 alive I wish that I could have this moment for life, 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 for life Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. There's what you call in-person marketing right here. Dunk Swiss.